Il Comune di Teramo sta pensando di realizzare un dormitorio per i meno fortunati. In che cosa consiste? Qual è l'idea dell'amministrazione comunale? Questa è un'idea che in realtà noi abbiamo avuto sempre come obiettivo sin dall'inizio del nostro insediamento. Naturalmente è una fase embrionale questo ragionamento, così come avevo annunciato durante una riunione online con l'osservatorio della casa e con l'Ater. Stiamo ragionando perché effettivamente sulla città di Teramo, ma come in ogni città, c'è un problema di casa, ma soprattutto di diritto della casa, ma soprattutto rivolto a una fascia particolare della società, ai più deboli e ai più fragili. Perché anche sul nostro territorio purtroppo si registra un forte aumento di persone che vivendo da sole o comunque trovandosi in una situazione di disagio economico, dovuto anche e soprattutto a questa pandemia, si ritrovano a non avere più un tetto sulla testa. Questo è un problema che naturalmente noi come amministrazione di cui dobbiamo tener conto e con la conseguenza di iniziare a ragionare su un locale, un immobile, in cui fare un dormitorio. Il ragionamento non è esclusivamente del Comune, devo essere sincera, anzi la Caritas in questo, che ha sempre e comunque su Teramo promuove moltissimo e aiuta tantissimo il Comune, stiamo ragionando insieme. È in una fase embrionale. Ti parla Assessore di una sede in Via Fonte Regina, per quanti posti letto più o meno? Stiamo ragionando sul patrimonio del Comune, ma così anzi facciamo un appello a tutti gli enti, perché sappiamo benissimo che Teramo purtroppo è ancora terremotata e moltissimi immobili di proprietà del Comune sono ancora inalgibili. Abbiamo alcune disponibilità, il consigliere Speca durante questa riunione ha ricordato, l'esistenza di questo immobile che si trova dalle parti di Via Fonte Regina. È un immobile abbastanza, non è molto ampio, quindi con una capienza molto limitata, ma nel frattempo stiamo comunque guardando tutti gli immobili che abbiamo a disposizione.